io farò decollare vediamo un po' ah si è così si se viene a vedere qui vedi tutta la schiazza vedi dove lo sto mandando e dopo dopo con gli occhiali se vuoi guardare dentro gli occhiali gli occhiali si vede meglio magari qui così trovi con gli ordini nudi magari magari guarda magari guarda si si vado sempre dritto adesso non lo vedi più, lo vedi solo da lì no è lontano, è a 1,3 km stai in qua, non andare sopra alla città se mi caschi non si trovo più no no non la trovo più se mi casca lì questa è l'altezza a 138 metri e a sinistra c'è la velocità ma quello grattacielo all'altezza quante è? del grattacielo non lo so vedi, sai che l'aereo è più alto di quello? del grattacielo? no sai che non lo so? adesso vado a vedere adesso andiamo a fare un... è dietro gli alberghi non ce la faccio andare a prendere il grattacielo vedi che il segnale è disturbato si si è più o meno sarà quella l'altezza adesso è il grattacielo adesso punto dritto adesso lui l'ha trovato si si lui lo segue si si è un po' disturbato dopo gli attenti dipende se lo sento pure? no no il tempo no questo magari se è un po' basso devo portarlo intero così è a 2 km e 8 km non invece non Adesso andiamo a vedere a che distanza riusciamo ad arrivare. Questa è la D'Artena. Oh, ecco basta. Mi avverte che ha perso il segnale. Praticamente l'aereo tramite il canale audio trasmette la posizione e quindi lui sai certamente dov'è, così lo tiene sempre puntato. Ho anche poco segnale. Vediamo un po'. Questo è il segnale del radiocomando che è un 50%. È un po' bassino. Dovrei arrivare circa 8 km. Adesso vediamo. Questo canto è che dietro è la dietro. Vediamo. Qua prende di più. Vediamo. 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 la miseria che non ce l'ha finito giù ah l'ha trovato adesso hai visto? eh l'ha perso di nuovo dai eh l'ha 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 Sì, c'è un po' che vuole. è stata una barca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo è un problema. Io vedo ma non lo controllo più. Quindi forse dovrò tornare indietro prima che cala il segnale della radio. Adesso provo ad andare più a sinistra. E' lontano lì? Eh sì, è un po' lontano. Adesso qui non so dove sono. Qui sono a 8 km. 8 km. Non so ripetere. E' un po' troppo in mezzo al mare. E' un po' bello. E' un po' bello. La città al mare è tutti due insieme. E' un po' bello. 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 Grazie a tutti. 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 Tanto tornando dritto è puntato più o meno nella finizione giusta. Grazie a tutti. Si vede in fondo sopra le nuvole. E' il San Marino. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 Questo è bello per quando vai sull'isola che stiamo in Africa, no? Sì, è un ligero. Bellissimo. Scusate o no? Lo vediamo E' un po' E' un po' Un po' E' un po' E' un po' Un po' E' un'esprefezio C'è un'esprezio di tutta roba Niente Non ho un'esprezio E' un'esprezio Non ne compro... Non ne comprate E' un'esprezio Siamo di afferci E' un'esprezio E' un'esprezio Sì, c'è una versione? Grazie a tutti. 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 Spengo tutto.